La primavera è sbocciata, la pallavolo entra nel vivo della stagione e PVO vi aggiorna sui momenti più importanti del volley regionale e nazionale. Va a gonfie vele la prevendita dei biglietti della World League 2013 per il 9 e il 14 giugno, con gli azzurri contro Germania e Cuba. Iniziamo il report sulle finali regionali Under-14 e sulla splendida avventura di Ornavasso nei play-off di A2 femminile. Poi la corsa a promozione nei campionati regionali e nazionali e la presentazione delle prossime finali regionali Under-16 e Under-17. Ad atlete e atleti nati dal 15 al 21 maggio, tanti cari auguri di buon compleanno. Tutto questo nel numero 68 di PVO. Il volley vive qui.